Travel Appeal nasce nel gennaio 2014 in H-Farm e l'idea era quella di raccogliere e analizzare tutti i dati disponibili in rete legati al mondo del turismo per trovare un senso all'interno di questo universo di dati, un senso che potesse essere utile ai territori, alle destinazioni e a tutte le aziende che lavorano nel mondo del turismo. Pensate ai miliardi di fotografie, le conversazioni sui social network, i milioni di recensioni che vengono pubblicati e che influenzano le scelte dei viaggiatori che decidono e acquistano in rete. Quali sono i dati che raccogliamo con il nostro algoritmo? Sostanzialmente due grandi famiglie di dati. La prima famiglia appartiene alla categoria di come una destinazione o un'impresa del mondo del turismo viene percepita dal viaggiatore digitale attraverso l'analisi delle recensioni, delle conversazioni sui social media, attraverso le tracce che i turisti, i viaggiatori lasciano quando fanno delle esperienze positive e negative. L'altra grande famiglia è l'indagine di come la destinazione o la singola struttura del territorio è in grado di comunicare. Analizziamo il sito internet o i siti internet, analizziamo i canali social e analizziamo tutti i contenuti che vengono prodotti. Ecco queste due parti unite assieme forniscono il nostro algoritmo e danno un indice di appeal che indica appunto il livello di attrattività del territorio stesso. Il team è passato da sei persone del 2014, il team originario, ha 18 persone attualmente, se tutto va come speriamo pensiamo di avere qualche altra persona entro la fine dell'anno. Abbiamo già diverse centinaia di clienti in Italia e iniziamo a muoverci in Svizzera e in Inghilterra. Abbiamo raccolto i dati, abbiamo costruito l'algoritmo e su questo algoritmo abbiamo realizzato delle applicazioni verticali specifiche per singole tipologie di aziende. abbiamo dei prodotti per tutto il mondo dell'ospitalità, abbiamo prodotti per la ristorazione, abbiamo prodotti per l'industria culturale, dei musei, lavoriamo anche con il ministero ad esempio e abbiamo un prodotto che unisce tutto, che è dedicato alle destinazioni turistiche.